E a proposito di fascino e di caccia affascinanti abbiamo con noi Sara che è la responsabile di redazione di un sito internet www.cacciainfiera.it che è un sito che richiama l'attenzione di cacciatori e di tiratori tra l'altro perché è un sito che continuamente propone notizie, informazioni aggiornate, io praticamente tutto il giorno e tutti i giorni sto davanti al computer per continuare a dare informazioni a tutti i nostri utenti che sono molto numerosi e questo ci ha colpito tutta la redazione molto positivamente. Molto numerosi cosa intende? Molto numerosi intende che migliaia di persone, siamo anche sui 4.000-5.000 visitatori al giorno per il sito, ci seguono attentamente, ci richiedono informazioni, si iscrivono alla newsletter e questo mi riallaccia un po' al discorso che hai fatto tu prima, significa che non è vero o non è vero totalmente che l'età media è eccessivamente alta nell'ambito dei cacciatori o perlomeno c'è una grossa informatizzazione. Non lo pensavamo, non lo speravamo così tanto, però ci sono veramente tanti utenti che ricercano ricercano attivamente su internet notizie, informazioni non solo, ricercano anche l'acquisto in internet. Noi abbiamo attivato a fianco di Caccia in Fiera anche un altro sito, un altro portale che si chiama cacciashop.it dove diamo la possibilità alle aziende gratuitamente di vendere i propri prodotti dall'abbigliamento alle calzature all'arte caccia, queste sono t-shirt che vengono vendute direttamente sul sito perché anche i cacciatori si stanno evolvendo in questo senso, non ce l'aspettavamo ed è importante perché vuol dire che c'è un cacciatore che si informa, che cerca attivamente le notizie, questo è importante. Molto bene, ma voi non lo confermate, ci andate su internet a vedere i siti di caccia? Come no, certo. Sì sì, anche lei Presidente ogni tanto naviga. Non solo io navigo, ma io ho un sito. E che sito è? www.fidc-panicarolamacchia.com Tutte le notizie e le informazioni che il cacciatore almeno qui in zona necessita. Perfetto. Andiamo all'avanguardia. Quanti anni sono che esiste il sito? Il sito ora sono tre anni circa e comincia ad avere anche delle risposte e va in sinergia anche con i siti della nostra amica, viene anche aggiornato da lei e diciamo che siamo all'avanguardia e diamo tutte le informazioni che possono essere utili ai cacciatori, se non altro questi qui che sono del nostro territorio. A livello di partecipazione, a livello di blog, questo ladeadellacaccia.it lo conoscete? Cosa ne pensate? È utile? Sì, sì, è utile come sito internet, ci sono tante cose, tante informazioni, dagli animali al mangiare bene, tutte cose comunque sia che riguardano la caccia, è una cosa utilissima secondo me. E poi il fatto che potete anche partecipare, no? Commentando i post magari? Sì, sì, si può anche partecipare, rispondere a delle domande, commentare con altri ragazzi e tutto quanto. Partecipazione, quindi commenti ai vari post, ma anche condivisione di interessi, passioni differenti, vero Presidente? Sì, passioni differenti, tanto è vero che io scrivo poesie, ne ho scritta una ultimamente riferendomi a altri tempi, che lo potrete trovare sulla Dea della Caccia, su luoghi e racconti e potete anche capire che questo dimostra e dà la possibilità anche per chi ama queste cose, poter contrattarci e dare danno anche dei suggerimenti. Per me è l'ideale, dovrebbe essere così e continuare così. Molto bene. E ora volevo chiudere con una detta ai lavori, insomma. Sara, te forse con la Dea della Caccia hai un rapporto differente rispetto ai normali cacciatori come noi. È un rapporto professionale in un certo senso, perché credo che qualunque, chiunque lavori in questo settore ha l'obbligo e il dovere di confrontarsi anche con gli altri siti e di valutare quanto effettivamente un blog in un sito, che è un sito di informazioni, per cui un sito che non è fine a se stesso, è fatto per chi legge, per chi partecipa, è assolutamente importante. Ti dà il polso dell'interesse delle persone su determinati argomenti. Non è più un'informazione univoca, semplicemente da me a te. Vi è un ritorno, vi è una discussione che è assolutamente importante, che mette in relazione cacciatori tra loro, ma non solo, anche molte volte proprio con le autorità, in un certo senso. Credo che sia assolutamente importante anche per chi è la guida delle federazioni dei cacciatori, un capire cosa veramente pensano i cacciatori. E invece per chi gestisce siti simili, quanto è importante? Come si modula il lavoro della Dea della Caccia per te e quindi per i tuoi siti? Per me è molto importante, in un certo senso è una guida perché questo contatto diretto che ha con i cacciatori e il ritorno dell'interesse dei cacciatori ci dà appunto un'idea di quelli che possono essere gli argomenti che più interessano, che più vengono seguiti. È come dico io un termometro, ci dà l'idea della temperatura più o meno alta di determinati argomenti e per chi lavora in questo settore è importante. Grazie a tutti.